abbiamo il diamante fermate 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 un po madonna si un po io non ho trovato di 4 io ne ho 7 7 allora a parte il fatto che non c'è iphone ci siamo solo noi bello vero bello affermi ho fatto un po di cose perché avevo rimasto siamo calati dal rifugio cioè la farm automatica le cose e la casa che è nuova è piccolina però toccava farla perché si è aggiunto lui ci fa compagnia la piante di picchiare mi succede che mi dipendono le cose è stato chiaramente uno scheletro io vado all'esplorazione perché non l'ho ancora fatto aspettami ti giuro io è un botto che c'abbiamo sto mondo però non c'è l'esplorazione sei dove sei? mi aspetti almeno certo non ho neanche del cibo io che bello non c'è l'esplorazione non c'è l'esplorazione non c'è l'esplorazione non c'è l'esplorazione un'altra ok un'altra che non c'è Allora però si tutto bello e carino, però voglio fare le cose molto più interessanti. Cambiamolo in italiano? Sì! Voglio mettere un'altra. Continuato! Ok hai fatto un po' di lana che può sempre servire, lo sai? Allora ricordami che ho un cavallo qui, come lo faccio a non farlo? Non ballare via? Ho paura, ma ne ho solo quello in una sella io. Perché ora ho un cavallo! Perché lui ora ha un cavallo, quindi è un pericolo mortale a tutti. Sì ok, mi permesso che lui ha un cavallo e quindi potrei fare il doppiatore. È vero? Curizio Merluzzo spostati! Fatti pescare! C'è una caverna qui sotto! Curizio Merluzzo, fammi portare il mio cavallo in casa! Credo sia una caverna, cioè non so sicuro che sia una caverna, però... Non è una caverna! Sì, guardalo che bello! Non è una caverna, cioè... Figura di merda. C'è pure un botto dei cuori! Guarda che miseria, questo è buono! Posso metterlo in casa, ti prego! Mettilo in casa! No, non c'entro, non c'entro! Soffoco, è troppo alto! Devo fare io un... Abbiamo delle cuore, un lancio, un qualcosa... Allora, Brenna è il tutto più interessante, visto che comunque stiamo andando molto bene. Oh, posso dare io un... Davvero? Sì! Ok, allora, lascio proprio la farm di pesca, se tu non ti muovere. Vado a fare l'incunine in casa, o anche nel pane io, ovviamente, e lo mangio, ecco. Perché non so cosa fare... Vabbè, vabbè, perché non so cosa fare... Dov'è l'incunine? Ah, ecco! Guarda, io voglio fare le cose molto più interessanti. Io, perché almeno... Aspetta, non so niente. Guarda, ho paura, ho seriamente paura di quello che... Allora, tra l'altro ero andando incredibile al fine del tutto della cazzo. Non venivo mai. Sì. Sempre un'imperienza, vieni! Però... Sì. Vieni! Ehm... Chiara... No, Gianna Roberto. Oppure non lo so, come volessi chiamarlo. Lo so, lo so. Lo so. È il mio cavallo, eh, ricordatelo. Mi vedete finché non gli metterlo, ma lo non è sparito o no? È be... È il tuo cavallo, mi sa, a sto punto. No, no, è giusto che lo tieni tu. Dobbiamo fare una cosa. Perché non teniamo un... Un mob domestico, che gli diamo un nome? Un... Un mob di quelli ostili? Sì. Comunque... Poi parliamo un coer e lo chiamiamo... Ugo. E mettiamo... Un name blocking, quindi... Ringuidiamo Ugo. E poi diventerà la mascot del... Del mondo. Guarda, c'è, cari mob stanotte, te lo giuro. Sì, allora... Intanto, lo sai che faccio adesso? Ho mentato e devo fare... Devo fare le cari mob e me che lo fa l'esperienza. Probabilmente adesso qui ci sarà un... Tipo un taglio dopo un montaggio bello e vedremo cose nuove. Quindi... Fai un attimo un botto con le mani. Tipo... Cioè... Applaudi. Ok, io torno... In tutta tranquillità e trovo... Il cavallo su una torta. Sì. In questo senso, ho deciso di farla entrare lento. Però è nato sulla torta del bar. Ma di quella, mamma mia donna. Ma cosa sento io è colpa di... Io... Io concludo qui. Sì, è colpa di diamante. Sì.